In Platone, l'amore è legato intrinsecamente alla nozione di desiderio. Buonanotte. Ti amo. Fermati per fare benzina, così domani vai direttamente allo chale. Come scusa, non vieni con me? Se di notte non volete bruciare vivi, ci sono un paio di robe elettriche da rifare. Bruciare vivi? Devi ambientarti subito, se vuoi far parte di questo posto. Oh, tutto a posto? Sì. Hai conosciuto qualcuno? No. A tavola non hai parlato, non mi telefoni più e sei allegra. Ciao, non faccio altro che pensarti, immagino che ci rivedremo presto. Ciao, non faccio altro che pensarti, immagino... Penso di aver incontrato qualcuno. In un fiume ancora da trovare. Amarci come se l'amore fosse la morte. Sei come le ragazze che fanno i porno. E Silvaine è tanto concreto. Non ti dà fastidio, vero? Silvaine è l'intellettuale della famiglia. Non mi stupisce che stia con una professoressa. Sono contenta che per una volta non stia con un sex symbol. Beh, sì. Nel mio ambiente è così che parliamo. Nel tuo ambiente? Che cosa significa? Io passo la vita con persone che sanno un sacco di vocaboli, ma questo non le rende più capaci. Ehi, bellezza! Tu sarai mia moglie, questa è garantita.